Leonardo Silva Revisore Quando usciamo a fare una passeggiata serale, romantica magari, e osserviamo nel cielo, per esempio Giove, Saturno, Marte, ci rendiamo conto che questi erano i stessi pianeti che osservavano i nostri genitori, i nostri nonni, i antichi romani. In fondo i pianeti non sono cambiati molto negli ultimi 4 miliardi di anni. Ma oggi sappiamo che esistono pianeti molto giovani, tra gli oltre 5.000 sopianeti conosciuti, e pianeti girano attorno ad altre stelle. Ecco, la domanda nasce spontanea, non è vero? Ma un uomo di Neandertal, 300.000 anni fa, se avesse avuto i nostri telescopi, avrebbe riuscito a vedere gli esopianeti che studiavamo noi? Beh, per rispondere a questa domanda, dobbiamo capire come nasce un pianeta. Per formare una palla di rocce e gas come Giove, ci sono due principi, la core accretion e la gravitation instability. Con calma, la prima, la core accretion è quando la stella si forma e rimane un po' di sporcizia attorno, che forma un disco, un disco circumstellare. Qui in questo disco la polvere colpisce, si colpisce, si fonde, fa sassuolini sempre più grandi, fino ad arrivare a formare pianeti da dimensioni della Terra. Ma questi pianeti, se hanno abbastanza materiale, possono arrivare anche a 5 volte la Terra. Però poi si fermano, perché aprono un gap, un solco nel disco, dove la polvere finisce, finisce, e lentamente rallentano. Però qualcuno, stranamente, riesce ad arrivare a 20 masse terrestri. E in quel caso, vroom, tutto il gas che lo circonda collassa nel pianeta e in appena 100.000 anni si può formare un pianeta anche 600 volte la massa della Terra, due volte Giove. Vi pare un processo molto veloce? Eh, non è così veloce. Esistono processi ancora più rapidi, come per esempio la gravitational instability. Cioè, se la massa del disco è abbastanza maggiore, abbastanza grande, e ci troviamo a grande distanza dalla stella, basta che spostiamo una singola particella del gas, un centimetro a destra o un centimetro a sinistra, che tutto il gas collassa, come nell'altro caso, ma senza il seme diventi massa terrestre. E può formare un pianeta anche 10 volte Giove in appena mille anni. Quindi, il nostro Galileo Neandertal, osservando i suoi pianeti, in teoria, avrebbe visto molti meno pianeti. E non solo. Anche gli antichi Greci o gli antichi Egizi, mentre facevano le piramidi, avrebbero visto meno pianeti, perché appunto si formano nell'arco di mille anni. Grazie. 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 Grazie.